Ciao a tutti amici di Youtube, io sono Travatar91, nuova recensione a tema horror come fa a intuire l'inquadratura come se già non bastasse il titolo del film di cui appunto si parla oggi e si tratta di un ennesimo nuovo capitolo di una saga famosa come sapete la mia idea era quella di parlare anche dei film precedenti prima di parlare di un capitolo successivo in questo caso non ci sono riuscito per ragioni di tempo, in più l'anno scorso era uscito un altro capitolo quindi almeno qualcosina di questo ho già potuto parlare sul canale prima o poi quando riuscirò però mi piacerebbe parlare dei capitoli che non ho mai trattato e magari poi rifare anche le recensioni dopo revisione di questo e del capitolo precedente nel caso questo video potrebbe non durare ma bisognerà poi vedere tutto a suo tempo non si sa mai come può andare in questi casi comunque per adesso parliamo appunto in questo video del film in questione che come leggete dal titolo è Scream 6 sesto capitolo, guarda un po', della saga di Scream iniziata nel 1996 con l'omonimo film diretto da Wes Craven e poi proseguiti con i film usciti rispettivamente nel 97 il secondo 2000 il terzo poi il quarto nel 2011 e solo l'anno scorso è uscito il quinto capitolo che tra l'altro non si intitolava Scream 5 ma solo Scream perché era un riferimento a cose come ad esempio Halloween perché l'Halloween 2018 non si intitolava semplicemente Halloween quindi si rifaceva quella cosa e beh la saga di Scream è piuttosto conosciuta brevemente è una saga che percura i cliché del cinema horror in particolare dello slasher visto che il serial killer ricorrente in tutti i film Ghostface è appunto una parodia dei serial killer horror maniac come ad esempio Michael Myers o Freddy Krueger quest'ultimo tra l'altro lanciato da Wes Craven che è stato appunto il regista dei primi quattro film della saga io quei quattro film li ho tutti qui in Blu-ray e pensavo di prendere il quinto non l'ho ancora fatto ma lo farò in futuro e appunto ero curioso di vedere cosa sarebbe stato di questo sesto film come il precedente appunto non è più diretto da Wes Craven che purtroppo era passato a miglior vita da un po' lui tra l'altro era piuttosto geloso di Scream non permetteva a nessun altro di dirigerlo infatti per cambiare regista è dovuto passare al creatore che riposi in pace e sia nel quinto che poi in questo sesto film sono subentrati Matt Bettinelli-Olpin Olpin, penso Olpin perché non c'è l'H dopo la P e Tyler Gillett questa coppia di registi che fanno parte del gruppo Radio Silence Production insieme avevano già diretto film come La stirpe del mare del male mio Dio che schifo e Finché morte non ci separi in original è ready or not quello invece è molto divertente ed è il motivo per cui ero molto curioso di vedere cosa avrebbero combinato l'anno scorso con il quinto Scream quinto Scream che non aveva convinto tutti ma invece si era piaciuto anche se non l'avevo più rivisto al cinema dopo quella volta e non sono riuscito a farmi il rewatch della saga completa ma ho potuto approfittare del fatto che allo Space Cinema il giorno d'uscita del film ovvero il 9 marzo 2023 almeno uscita italiana avevano dato questa la maratona Scream in cui sostanzialmente ti davano oltre a questo lunghissimo poster che non so dove mettere ne avevano dato uno simile anche quando avevano fatto la maratona di Halloween in occasione di Halloween Hands che vi avevamo fatto vedere guardatevi il video dedicato per scoprirlo e per l'appunto quindi ho potuto approfittare anche appunto per potermi rivedere diciamo i due Scream post Creven uno dietro l'altro sono appunto andato a vederlo con un amico lo stesso con cui avevo fatto tra l'altro la maratona di Halloween ed ero abbastanza curioso appunto di vedere questo Scream 6 che si ambienta un anno dopo Scream 5 lo chiamerò così perché chiamarlo Scream del 2022 è un po' troppo lungo un anno dopo Scream 5 seguiamo le due sorelle che erano state protagoniste del film precedente ovvero Samantha Carpenter e Tara Carpenter ricordiamo che Samantha a proposito spoiler spoiler fin da subito su tutti gli Scream precedenti per questo nuovo ovviamente aspetto la parte affettiva ma sui precedenti io dico tutto identità degli assassini e tutto quanto quindi se non siete in pari almeno con i primi 5 non proseguite con la visione di questo video è impossibile non parlare di Scream senza fare spoiler però non voglio rovinarvi la sorpresa quindi vi avviso appunto è passato un anno dei terribili avvenimenti di Scream 5 appunto abbiamo Samantha e Tara Samantha ricordiamolo è figlia legittima di Billy Loomis ovvero il principale serial killer del primo Scream che ricordiamolo erano due nel primo Scream lui e Stu appunto Samantha sta cercando sta andando dal terapista perché vuole riprendersi da quello che le è successo scopriamo anche che sta prendendo delle medicine per non avere più visioni del padre morto che la incita diciamo a diventare come lui mentre invece Tara sta cercando di fare di tutto per per dimenticare e non affrontare quello che è successo condividono un appartamento insieme tra l'altro a altri due superstiti del film precedente ovvero i fratelli Chad e Mindy che ricordiamo essere i nipoti di Randy apparso nei primi due capitoli della saga principale e appunto stanno cercando di continuare la loro vita a New York se non fosse che Ghostface torna a farsi sentire e quindi bisognerà i nostri protagonisti dovranno sopravvivere tra l'altro ad aiutarli tornerà Gail Weathers unico personaggio del trio di protagonisti principali a tornare in questo film visto che Linus ci ha lasciati tragicamente nel quinto film pace è l'anima sua mentre Sidney qui non compare viene detto che fine ha fatto in una frase e poi per il resto Gail è l'unica dei protagonisti ad apparire unico altro personaggio dalla saga precedente che ritorna è Kirby che noi credevamo essere morta in Scream 4 unico altro film in cui era apparsa invece sopravvissuta e adesso è una giovane agente dell'FBI loro insieme al codazzo di nuovi personaggi che servirà a essere cane da macello slash possibili sospettati possibili killer eccetera dovranno appunto cercare di capire chi è questo nuovo Ghostface se è più di uno se è solo uno insomma le solite cose dietro al capire chi sia l'assassino e cercare appunto di sopravvivere e capire anche le sue motivazioni a tal proposito io quando parlerò di Ghostface ne parlerò al maschile singolare maschile è da intendersi come maschile neutro quindi non intende automaticamente che sia un uomo potrebbe esserlo come no e allo stesso tempo il fatto che sia singolare non vuol dire che ce ne sia uno solo e il fatto che io sta mettendo questo non vuol dire che siano più di uno appunto però vi dico io parlo di Ghostface al singolare maschile non sto necessariamente sottintendendo nulla quindi non come c'è da dire ah ma hai detto questo quindi in realtà sto spoilerando no è solo un modo per indicare l'assassino non sto intendendo nulla se poi il modo in cui io mi esprimo anticipa inavvertitamente qualcosa del film non è mia intenzione solo che il film è così e io mi devo esprimere in qualche modo quindi per me Ghostface in questa parte non spoiler è maschile singolare detto questo appunto passiamo al film io lo attendevo perché ero curioso di vedere alcuni aspetti innanzitutto e qui tra l'altro ci ricolleghiamo al mio video precedente ovvero quello su Creed 3 vedere come la saga avrebbe retto senza il protagonista o in questo caso la protagonista storica perché dove Creed 3 è il primo film ambientato nell'universo di Rocky a dover fare a meno appunto di Rocky Scream è il primo capitolo del franchise a fare appunto a meno di Sidney Prescott la storica appunto protagonista e lo dico fin da subito rispetto a Creed 3 in cui la mancanza di Rocky si sente tanto in Scream 6 questa mancanza si sente di meno e il motivo è presto detto Scream è una saga slasher una saga slasher piuttosto atipica ma è comunque una saga slasher e nelle saghe slasher il personaggio che deve ricorrere per dare identità alla serie non è il protagonista positivo è il serial killer quindi finché c'è Ghostface è il bello di Ghostface che sostanzialmente è il serial killer più mortale e nel senso che è facile a schiattare e più immortale allo stesso tempo perché essendo che Ghostface è più la maschera che altro il concetto di Scream è sempre chi c'è sotto la maschera Ghostface può tornare sempre anche se lo uccidi paradossalmente ad ogni incarnazione almeno nei cinque precedenti succederà anche qui e chi lo sa comunque quindi appunto finché c'è Ghostface tu dici ok questo è Scream e la presenza appunto del killer è sufficiente a a darti l'idea sì siamo nella saga giusta qualora nel prossimo in un eventuale Scream 7 che penso faranno perché mi pare che il primo weekend abbia una previsione di incassi non gigantesca ma per il tipo di budget che ha questo film assolutamente ottima semmai non dovesse ricomparire più nemmeno Gale non credo che la saga ne sentirà tanto la mancanza certo una possibile obiezione sarebbe però una delle cose interessanti di Scream era proprio questo è forse l'unica è stata fino al 5 l'unica saga in cui la Final Girl è sempre ricicciata fuori sopravvivendo sempre e comunque perché se voi guardate tutte le altre saghe la Final Girl con cui si apreva il primo film prima o poi schiattava venerdì 13 alcune interazioni di Halloween poi dipende da quale teniamo in considerazione però comunque si è provato ad andare avanti senza Laurie Strode Nightmare insomma sempre tutte le saghe non aprite quella porta lì là addirittura la Final Girl originale la si è ritirata fuori soltanto nell'ultimo film di Netflix che io non ho visto è stata interpretata da un'attrice diversa perché l'originale era morta quindi le saghe le saghe slasher appunto riescono sempre a fare a meno della loro protagonista Scream era l'unica eccezione vero ma un'altra grande eccezione di Scream era che era l'unica saga slasher diretta sempre dallo stesso regista e già questa unicità si è persa con Scream 5 quindi è chiaro che il brand sta cambiando identità possiamo dire che i primi 4 fossero una fase della saga che piaccia o meno dal quinto in poi c'è una nuova fase anche qui che piaccia o meno potete dividerla in tronconi se siete se volete fare i completisti ma non vi piacciono le ultime cose vi posso anche dire andate avanti fino ai 4 che sono gli Scream di Craven e poi fermatevi lì o fermatevi anche al terzo se volete perché il terzo comunque era una possibile chiusura quindi insomma come la metti oppure fermatevi anche al primo ripeto insomma puoi andare in quel caso può andare come ti pare comunque appunto è una cosa che questo appunto accomuna un po' di più Scream ad altri slasher però appunto non danneggia così tanto la saga per quel che mi riguarda c'era poi il dubbio se il brand potesse funzionare in un in un contesto come quello new yorkese perché abbiamo avuto 3 Scream su 5 ambientati a Woodsboro una piccola cittadina americana il secondo era ambientato in un college il terzo era quello ambientato nella città più grande cioè gli studi a Los Angeles addirittura degli studios di Hollywood ma non è che entravvi mai negli studios più grossi erano comunque studios da film horror quindi relativamente contenuti qui c'è la dimensione un po' più grande poi fino a un certo punto perché non è che vedi mai protagonisti qui ve lo dico che vanno solo in paese di building o robe del genere è comunque una parte un po' più cittadina e metropolitana di new york letteralmente visto che il primo trailer si apre con una sequenza ambientata in metropolitana in questa ottica quindi la saga regge inoltre i due registi non saranno dei maestri come lo era Wes Craven che ha magari fatto un paio di film non riuscitissimi nella sua carriera ma ci ha regalato anche tantissime perle però nonostante questo secondo me se la cavano li trovo dei mestieranti abbastanza in gamba ripeto non i nuovi maestri dell'horror come potevano essere un Rob Zombie anche se il suo ultimo film è stata una commedia un po' particolare o registi di questo tipo però effettivamente a me loro piacciono mi stanno simpatici a parte vabbè quel disastro che era la strip del male consideriamola una brutta parentesi a parte quello però loro li trovo capaci e riescono a mantenere qui una verva che ad esempio io non ho visto che è un film di tutto altro genere ma che non ho appunto visto in Creed A3 in cui la mancanza di Rocky si sentiva anche perché era un film molto più scialbo rispetto ai precedenti anche a livello di regia e tra l'altro stavo sentendo opinioni contrastanti ma c'era anche chi diceva meglio del quinto soprattutto diciamo che quelli a cui il quinto non aveva convinto tanto dicono che questo sia meglio io che il quinto l'ho apprezzato preferisco effettivamente il quinto a questo sesto film però comunque non posso dire che mi abbia fatto del tutto cagare ho un paio di riserve però anzitutto appunto la regia come ho detto è una buona regia ma secondo me erano un po' più freschi diciamo in Scream 5 anche perché è stato fatto nel giro di un anno questo ed è successo solo una volta che uno Scream venisse fatto a così poca distanza tra il 2 e il terzo per dire erano passati tre anni solo tra il primo e il secondo era passato un anno e secondo me un po' si notava Scream 2 dei film di Kraven è quello che ricordo un pochino meno che mi ha lasciato di meno quindi potrebbe essere appunto che anche qui l'effetto si faccia sentire è meglio far espirare un po' la saga non è disastroso questo Scream 6 però appunto forse se gli si fosse lasciato un po' di tempo si sarebbero potuti anche sbizzarire un po' di più con gli omicidi che comunque non è che siano coreografati male ma eronicamente per me la parte migliore a livello proprio tecnico non comprende in sé un omicidio ma è ciò in realtà che si è visto nel teaser ovvero la sequenza metropolitana ci sono i raga i nostri protagonisti che stanno appunto prendendo la metro e ci sono varie persone mascherate per Halloween e moltissimi sono mascherati da Ghostface e appunto loro sono lì che dicono cazzo ma chi è davvero cioè ma chi è semplicemente un cretino mascherato e invece chi è che ci sgozzerà nel tentativo appunto di farci fuori chi ci seguirà quando usciremo eccetera ed è veramente un momento di messa in scena anche qui non sono Wes Craven i due registi ma secondo me se la cava molto bene la tensione regge quindi io da quel punto di vista sono comunque soddisfatto il vero problema secondo me in questo Scream 6 è la gestione della parte metanarrativa tutti dicono è un po' poco rispetto agli Scream soprattutto rispetto allo Scream precedente in cui era estremamente preponderante non che quelli di Craven non lo fosse però liberamente tutto il discorso ruotava attorno appunto al famoso Stab 8 perché ormai con l'adattamento si è tornati al titolo originale dei ricordiamoci i film basati sui fatti reali quantomeno all'interno dell'universo cinematografico che un tempo erano tradotti come squartati mi manca squartati sinceramente come traduzione però vabbè qui lo chiamano Stab e appunto qui Stab non viene neanche nominato credo che sia l'unico film di Scream che non nomina Stab tranne il primo semplicemente perché Stab non poteva esistere prima che avvenissero gli avvenimenti del primo quindi rendiamoci conto a che livello siamo c'è la solita sequenza in cui vengono comunque enunciate le regole e ne parlerò meglio nella parte spoiler ma secondo me quella è la parte più debole perché secondo me hanno fatto un po' di casino con le regole in questo caso cioè non è che dicano cose sbagliate ma ve lo devo spiegare dopo quella parte lì non c'è molto ma comunque anche lì non è gestita tantissimo che poi chiariamo se ci pensate bene in Scream cioè quello che forse a molti ha fatto fa un po' storcere il naso è questo il quinto Scream era non vorrei dire una fesseria il primo Scream in cui le motivazioni degli assassini erano appunto legate a Squartati perché pensateci Scream 2 era la madre di Billy che voleva vendetta più uno che voleva attenzione dal processo mediatico in Scream 3 ok il cattivo era il regista di Squartati 3 ma era incazzato con Sidney perché era il suo fratello illegittimo eccetera eccetera Scream 4 tra l'altro se sto sbagliando Scream 3 Scream 4 c'era la cugina di Sidney che voleva diventare più famosa di lei ma non era legato a Squartati in sé invece Scream 5 era proprio noi siamo fan di Squartati e vogliamo dare nuove idee per proseguire bene il brand dopo un tale impatto che ti dà il C dopo una tale importanza che il 5 da Stab toglielo completamente e fai che a te è successo effettivamente un po' ti lascia stranito infatti poi quando vengono elencate le motivazioni di Ghostface pensi eh però è strano che non pensi a Stab poi mi viene da dire no aspetta ma nessuno effettivamente pensava a Stab però appunto ti ha talmente riempito la testa di Stab il quinto che qui il sesto fai what? e quindi ok e quindi appunto questo fa strano però il film riesce comunque a reggersi abbastanza bene appunto perché le scene di omicidio e di tensione sono orchestrate abbastanza bene ecco l'unica cosa che non mi ha convinto a livello tecnico sono alcuni stacchi che veramente li ho trovati iper fulminei tipo a un certo punto c'è una vittima che casca giù e colpisce qualcosa prima di schiantarsi male a terra perdendo la vita e c'è proprio personaggio che sta cadendo pupazzo insomma quello che è controfigura pupazzosa che colpisce ciò che deve colpire ma per non far vedere che è un pupazzo due secondi anzi meno poi stacco netto e si vede il personaggio a terra stecchito slash stecchita e il problema appunto è ok però appunto quello stacco fa veramente strano ce ne sono due o tre così poi per il resto in realtà funziona ma appunto dicevo a parte un po' di svarioni funziona bene regia montaggio e tutto e l'altra cosa appunto e qui sono d'accordo con quello che hanno detto altri non sono male i personaggi risultano abbastanza simpatici e il nuovo gruppo che si sta formando potrebbe effettivamente tenere botta per ancora un po' di film tra l'altro ricordiamolo che Tara è interpretata da Jenna Ortega che ora è diventata famosissima per aver interpretato mercoledì nell'omonima serie di Netflix di cui trovate anche il video la video recensione sul mio canale quindi diciamo che insomma adesso abbiamo anche un'attrice che riesce anche un po' a tenere con la sua sebbene lei in realtà sia la coprotagonista perché la protagonista è sua sorella comunque nonostante questo lei riesce a tenere abbastanza la scena diciamo che anche del carisma derivato dall'essere diventata famosa grazie a un'altra serie che le permette di tenere in piedi la baracca ma in generale i personaggi funzionano si è cercato un po' di svilupparli e se li dovessero portare avanti sarei curioso di vedere come prosegue il loro percorso il risultato finale nel suo complesso è un film che possiamo considerare decoroso non tra i migliori della saga secondo me il quinto faceva proprio un discorso più interessante che non tutti hanno apprezzato ma che io trovo estremamente ho sempre trovato estremamente figo anche alla seconda visione e quindi appunto questo secondo me è inferiore forse effettivamente è lo Scream che mi è piaciuto di meno ma dovrei appunto farmi un rewatch completo per esserne sicuro ma non mi sento di definirlo brutto diciamo che bisogna un po' capire come andare avanti con la saga appunto però diciamo che per adesso riesce ancora a reggere vediamo cosa combineranno appunto se andranno avanti con Scream 7 8 c'è chi dice però non ha senso non c'è più nulla da parodiare appunto già questo film Scricola un po' in merito a quello se va avanti Scream rischia davvero di perdere troppo la sua identità secondo me dei discorsi metanarrativi si possono ancora fare ma preferisco dirlo nella parte spoiler appunto perché voglio partire anche da quello che dicono in questo film piccolo avvertimento restate fino alla fine dei titoli di coda perché c'è una piccola post credit non è rilevante ai fini della storia è una semplice gag ma mi ha fatto morire da ridere e quindi detto questo posso chiudere qui la parte senza spoiler dicendo una cosa per la prima volta ho beccato Ghostface a metafilm diolitamente cogliati dicevo forse lui sbarra lei no in realtà lei barra lui insomma dipendeva continuavo a cambiare idea questo e forse qui c'erano dei momenti di debolezza per la prima volta o dei per la prima volta quando ho visto una certa scena ho indicato il personaggio sullo schermo e ho fatto that's it indicando appunto secondo me lui barra lei era o l'unico Ghostface o il Ghostface principale e è arrivato e tra l'altro man mano che andava avanti diceva amico ok osserva questa cosa in realtà sta dicendo che osserva questo in realtà è perché e infatti poi alla fine ho fatto ho fatto proprio beccato ho beccato appunto e niente non so se essere orgoglioso di me o se appunto sia un modo per dire però la prima volta che Ghostface si rivela così tra virgolette ovvio anche se non avevo capito le motivazioni quelle effettivamente mi sono giunte nuove avevo anche teorizzato per spiegare una certa cosa magari e poi in realtà la spiegazione era tutt'altra quindi prevedibile effettivamente fino a un certo punto quindi appunto chiudo qui la parte senza spoiler se fin qui vi è piaciuta mettete mi piace iscrivetevi condividete e tornate a vedere il resto quando avrete visto il film mentre invece per chi l'ha già visto o se ne frega degli spoiler e in questo caso male perché mi spiace ma Scream è proprio quel tipo di film che piacciono non piacciono vanno visti sapendo il meno possibile tra parentesi un applauso a chi ha diffuso i leak che spoileravano l'identità del killer veramente dei gran geni che andava sotto a dirlo nei commenti andate tutti a cagare il buon Paolo Innocenti che è un grandissimo fan di Scream ci ha pure fatto un video per denunciare giustamente questa cosa quindi appunto chi ha già visto il film se ne frega secondo me sbagliando degli spoiler 5 4 3 2 1 spoiler partiamo dalla questione metanarrazione Mindy che ormai è diventata chiaramente la nuova Randy tra l'altro dove Randy era un masco bianco etero qui abbiamo una ragazza di colore lesbica quindi si vede proprio il segno dei tempi che corrono e per me la cosa non è un problema l'unica cosa di cui mi rendo è che preferivo la sua conciatura nel film precedente e voi direte ma che te frega per carità non è che cambi tanto però la sua conciatura attuale è quella che io chiamo acconciatura da lesbica cioè vuoi far capire in un film che una lesbica le fai i capelli cortissimi e dici ok questa probabilmente a un certo punto si rivelerà omosessuale non che non esistano persone così nella vita vera però vedere sempre questa cosa nel film mi ha un po' rotto le scatole era più carino nel film precedente in cui non potevi capire che fosse omosessuale ficca lei semplicemente non diceva con nonchalance tutti lo accettavano che voleva pomiciare con una ragazza chiaro semplice facile qui invece hai visto c'hai capelli corti quindi è lesbica ma sta con una e lo vediamo dall'inizio del film quindi non serviva vabbè è un puntiglio mio che se ne frega appunto Mindy dice questa ormai è una saga e io dico e grazie a cazzo cioè ma va ma va ma va ma va da moga una saga quindi lei dice eh le regole poi le saghe sono tutto è più grande più budget più morti nuove location tutto non era esattamente come lo dice cioè più o meno quello che dicono in Scream 2 era un po' diverso era più ci sono più morti ok ma il concetto è man mano che vai avanti devi alzare la posta di fatto l'hai già detto cioè mi sembra un po' ripetitivo anche quella cosa del ora anche i personaggi storici possono morire sì l'avevano già detto in Scream 3 tra l'altro anche i personaggi storici possono crepare uno in realtà ha già crepato nel film precedente in questo poi non ne crepa nessuno e anche qui Scream 3 si basava su chiunque può morire poi l'altà dei rilevanti non muore nessuno sempre lì torniamo ragazzi l'abbiamo già vista sta roba e anche la regola del e ora è tutto inaspettato perché le saghe devono rinnovarsi sì come dicevano in Scream 4 l'inaspettato è il nuovo cliché sono tutte regole già dette potevi giocare su questo sull'idea che arrivati a un certo punto finisci per diventare ripetitivo poi dici sempre la stessa cosa anche se magari in una salsa leggermente diversa ma arrivati a ma come la mette giù nel film sembra non seriamente novi visto questo è uno Scream abbiamo messo le regole quindi è come gli altri Scream eh 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 sì però sono le regole peggiori di tutta la saga ma per il semplice fatto che le hai già fatte in quella scena ci sarebbe stata Gail bene Gail a farlo notare a dire ma io tutte queste cose le ho già sentite sarebbe stato interessante appunto far notare come appunto prendere in giro l'idea di una saga che sembra rinnovarsi ho visto ho cambiato ambientazione personaggi però poi di base le cose non cambiano poteva essere una cosa carina visto che anche le motivazioni poi sono motivazioni già viste poi ci arriviamo purtroppo così così non è qualcuno potrebbe dire ma magari in realtà è proprio così sei solo tu che non te ne sei reso realmente conto sì però Scream a suo modo è sempre stata una saga appunto un po' di da scalica che certe cose te le spiegava quindi se non me lo dici chiaramente unica cosa positiva effettivamente è che come spesso accade in Scream le regole enunciate vengono sia mantenute sia violate perché se notate bene dipende mi viene in mente ad esempio Scream 3 no chiunque può morire la regola non viene rispettata però dice anche il passato tornerà a mordervi le chiappe e sì perché alla fin fine veniva fuori appunto tutto riconduceva alla madre di Sidney e quello che aveva combinato che poi aveva scatenato l'incazzatura di Billy quindi alcune cose erano rispettate alcune no e anche qui no ci sono più omicidi tutto è più grosso e questo viene rispettato ma appunto come Scream 3 chiunque può anche i personaggi storici possono morire in questo caso no sembra che Gale morirà come è già successo a Linus e invece non le succede Sidney invece scopriamo che ha il sicuro con marito e figli e dicono basta lei ora si si merita al lieto fine questo è un po' incoerente col film precedente dove Sidney sembrava intenzionata di dire ogni volta che c'è un Ghostface io ci vado dietro ma è molto probabile che Sidney si sia resa conta che questo è un problema che ormai segue tale che quindi per lei non avrebbe più senso ritornare in pista mettiamola così da un lato dici è un po' è un po' egoista però appunto ha una famiglia soprattutto dei bambini piccoli a cui pensare ha senso che dopo tante sofferenze voglia restarsene diciamo per i fatti suoi e tra l'altro Tara e Sam glielo riconoscono quando Gale dice Sidney merita il suo lieto fine loro due incazzate dicono si è vero a differenza tua perché? questa è una cosa che non mi ha fatto impazzire Gale aveva detto che non avrebbe scritto un libro su Scream 5 e invece poi l'ha scritto ora questa cosa da un lato è coerente con Gale Gale è sempre stata quella che sembrava cambiare poi non cambiava mai alla fine di Scream 2 diceva vengo con Linus come a dire chi se ne frega della celebrità e poi in Scream 3 si erano lasciati Scream 4 alla fine di Scream 3 si ci sposiamo viviamo per sempre felici e contenti e già Scream 4 lasciava intendere che il loro matrimonio scricchiolasse e infatti non mi sono sorpreso che si fossero lasciati in Scream 5 quindi insomma l'abbiamo già visto però appunto sembra un personaggio incapace di progredire e anche qui poteva essere interessante se mi avesse puntato un po' di più sul discorso del si cambia si cambia ma poi in realtà certe cose rimangono quindi Gale che è sempre la stessa le motivazioni che qui tornano a essere diciamo una sorta di vendetta mentre invece come loro erano appunto nel 2 e nel 3 una madre che voleva vendicare il figlio un fratello che voleva vendicare il rifiuto della propria madre naturale e qui invece abbiamo anche qui una morte da vendicare ma ci arriviamo dopo quindi se ci avessero giocato un po' di più ma tra l'altro anche Kirby cazzarola è un personaggio che ufficialmente era morto e che qui viene ripescato per fanservice dillo per cura questa cosa tra le regole di possono morire personaggi storici ma anche personaggi morti in realtà possono tornare anche perché in Scream 5 si parlava tanto di Stabotto che aveva fatto incazzare tutti diretto dal tipo di cena con delitto chiaro riferimento all'episodio 8 di Star Wars che aveva fatto incazzare un sacco di gente e in guarda caso cosa succede poi in episodio 9 ritirano in ballo abbastanza culo Palpatine anche qui fallo risuscitare infatti io ero d'accordo cioè c'era questa teoria secondo cui Stu sarebbe resuscitato e sia perché a quanto pare una delle idee era di far scoprire che non era morto in Scream 3 che sarebbero dovuti andare da lui e quindi ci sta appunto regola no? idee scartate vengono recicciate fuori i morti tornano in vita c'era tanto materiale in realtà da perculare e non viene fatto del tutto e anche per il futuro questa cosa è emersa in nel gruppo privato Whatsapp di facce di nerd in cui Mattioschi dice ecco cosa potrebbero perculare in Scream 7 la mania di fare universi condivisi tornando a parlare di Creed 3 mo con Amazon Michael B. Jordan vuole fare il Creedverse che no cioè sinceramente anche se mi fosse piaciuto Creed 3 Rocky Creed non sono una saga che si presta a una roba del genere però appunto percula quello o addirittura qui la sparo grossa ci starebbero benissimo due fazioni di Ghostface una che vuole continuare la saga appunto espandendola e un'altra che cerca di uccidere tutti per dire no poniamo la fine qui la saga ovviamente intendo stab è andata avanti fin troppo bisognerebbe staccare la spina che è un po' il grande dibattito che c'è appunto in Star Wars sui vari universi è giusto andare avanti a un certo punto sarebbe meglio finire c'è materiale c'è materiale ma anche qui la cosa delle saghe non devi perculare le saghe anche perché poi le saghe ci sono sempre state già Scream la saga di Kraven perculava le saghe horror perculate le saghe programmate la trilogia ultima di Halloween tutti i cinecomici adesso le saghe vengono ragionate con già dobbiamo fare i sequel i sequel devono puntare ad arrivare a un certo obiettivo che magari teaseriamo già da molto prima quindi con i film di supereroi teaser il crossover per dirne una in Halloween teaser che proprio ci sarà un confronto finale tra Laurie Strode e Michael Myers potrebbero potrebbero perculare quello e invece no qui viene trattato semplicemente come il solito capitolo stand alone di una saga ma questa secondo me è la cosa veramente edevore del film poi per il resto appunto in realtà mi è piaciuto appunto perché le scene di omicidio non erano secondo me come quelle del quinto quella di Linus rimane fantastica colui che viene preso su due coltelli e tirato su da parte a parte meraviglioso comunque non per il personaggio poverino però come era messa in scena mi piaceva un sacco e appunto è appunto qui un po' meno creativo ma ci sono delle cose che mi sono piaciute e c'è appunto questo tentativo di guardare al passato con percorrere all'indietro tutte le varie maschere dei Ghostface e alla fine si scopre come avevo intuito che il killer è il detective che si sta occupando della cosa perché quando gli è morta la figlia tu dici non può essere lui però poi ho pensato ma in Scream 4 uno degli assassini era Jill e Jill aveva ucciso la sua stessa madre per rendersi credibile tanto che appunto lì il copo di scena è abbastato su quello moriva la madre Jill e dice ok non può essere Jill e invece e invece quindi ci sta benissimo questa cosa e quindi ho pensato ok si scoprirà che ha ammazzato la figlia per un qualche motivo si accennava a un figlio morto magari la figlia è una delle responsabili della morte e tirerà in ballo qualcosa per cui Sam Tara insomma qualcuno del gruppo è involontariamente responsabile della morte del figlio e invece involontariamente mica tanto perché scopriamo che quel tipo lì è il padre di Richie uno dei due assassini del film precedente il Billy Loomis diciamo di Scream 5 perché appunto era il fidanzato di Sam che si era avvicinato a lei al solo scopo poi di poterla far fuori ed eleggerla a nuovo Billy Loomis per un nuovo stab e tra l'altro scopriamo che sua figlia non è effettivamente morta perché lei è una dei tre Ghostface questo è il film con più Ghostface che in realtà sono quattro perché comunque il film inizia appunto con la solita uccisione di una ragazza al telefono che tra l'altro è interpretata da Samara Weaving che io ho conosciuto perché era stata la protagonista di Finché è morta non ci separi sempre dei registi lei viene uccisa e colpo di scena Ghostface si toglie subito la maschera e tra l'altro scopriamo che Tony Revolori il Flash Thompson dell'MC1 che è protagonista di quel capolavoro che è Gran Buddha a quest'hotel ora appunto lui si toglie la maschera torna a casa dal suo conquilino scopre che il suo conquilino è stato ucciso era stato ficcato nel frigorifero e viene poi ucciso appunto da uno dei veri Ghostface che tra l'altro gli dice ma dovevamo finire il film chi se ne frega dei film che appunto vorrebbe essere una sorta di visto se ne stanno fregando dei film quindi questo è uno scream diverso ma concettualmente la grande importanza data ai film cioè a Stab avveniva appunto in Scream 5 negli altri sì c'era nel primo perché appunto c'era Billy e Stu che erano già pazzi e semplicemente per i loro omicidi prendevano spunto dagli horror quindi l'idea era quella prendere spunto dall'horror per fare i propri omicidi ma non erano così importanti ma non erano al centro delle motivazioni come invece appunto era in Scream 5 e qui appunto si torna alla vendetta come in Scream 2 dove lì c'era una madre che voleva vendicare il figlio qui abbiamo padre e fratelli che vogliono vendicare il figlio slash appunto fratello quindi insomma c'è un po' questa differenza qua tra l'altro pare che mi hanno detto sempre nel gruppo di Faci Nerd che alcuni hanno alcuni non sono stati contenti del fatto che l'assassino faccia il monologo gli assassini facciano il monologo finale con lo spiegone tutti gli Scream hanno il monologo finale con lo spiegone questa per me è l'ennesima prova che a volte quelli che capiscono meno un brand o un franchise sono i loro stessi fan come già ci aveva dimostrato Scream 5 con la bellissima battuta di Ember il problema degli stab è che non c'è un cattivo ricorrente ricordiamoci che gli stab sarebbero gli Scream ma uno dei pregi di Scream è proprio che sì c'è un cattivo ricorrente a livello di maschera ma non a livello di identità che cazzo di film avete visto voi stessi non avete capito la saga che volete difendere qui è un po' secondo me una dimostrazione di quello il finale poi appunto avviene in questo cinema Scream 2 avveniva in un teatro e dove appunto viene proiettato tra l'altro il filmino il fan film fatto da Ricci come in Scream 3 c'era diciamo il film realizzato dalla madre di Sidney a Hollywood quindi insomma ci sono un po' di citazioni c'è anche Ethan il fratello di Ricci che alla fine risorge perché ci deve essere sempre un killer che si rialza a sorpresa prima di venire per poi venire accoppato e il film finisce con Samantha che uccide il detective dicendogli tu io non sono come mio padre io sono migliore ma tu te la sei presa con la mia famiglia e lo sgozza male e c'era a dire questo appunto il film gioca su ma Samantha diventerà come Billy in teoria già Sidney sarebbe dovuta diventare lei a un certo punto la killer con tutto quello che ha passato perché lei comunque uccide abbastanza con sadismo per carità se lo meritano tutti di crepare quegli stronzi però effettivamente sono proprio cioè Sidney è proprio sadica quando ammazza i killer però appunto ci può stare quindi infatti spesso e volentieri si dice ma non è che a un certo punto Sidney diventerà Billy Loomis io attualmente se un qualche personaggio dovesse diventare Ghostface punto su Tara perché la puntano talmente tanto su Sam che rischia che alla fine avrebbe più senso colpo di scena no è la sorella normale cioè se non infettata dai geni di Billy che dovrebbe diventare Ghostface quella cosa lì sarebbe un colpo di scena maggiore poi c'erano state lamentere su ma Ghostface non usa il fucile e questa cosa in realtà l'ho apprezzata perché se vi ricordate una delle cose che a quanto pare ha fatto incazzare i fan in sta botto è che il cattivo utilizzava lì tipo un lanciafiamo insomma non era il classico stab e tra l'altro l'ha fatto incazzare perché non c'erano i protagonisti principali alcune di queste cose però le fanno proprio in questo Scream quindi appunto giocano su questa cosa questa è forse la parte metanarrativa più interessante paradossalmente che Scream 6 sia molto simile al tanto criticato sta botto a parte questo che dire è appunto bellissima la sequenza in metro con Mindy che dice cazzo ho sbagliato di nuovo perché l'era convinta che Ethan fosse Ghostface e infatti sì alla fine in realtà ci ha azzeccato quindi che qui si gioca su ho sbagliato non ho sbagliato si gioca appunto la scena in cui Gale sembra che continuamente deve morire non deve morire succederà come con Linus in questo caso invece non muore secondo me in Scream 7 non tornerà e sinceramente lo preferirei togliamo definitivamente il cast vecchio e lasciamo quello nuovo a prendersela appunto con i nuovi Ghostface che verranno e staremo a vedere appunto esilarante la scena post credit con Mindy che fa non tutti firmano una scena post credit e io lì sono morto fantastica 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 quindi io quello lì l'ho amata tantissimo e poi uno Scream in cui si tromba abbastanza cioè non si vedono effettivamente scene di sesso però Tara si è messa si mette con Chad anche se Emma ha trovato questo belloccio come lo chiamano loro con cui appunto ha una relazione l'unica del quartetto perché adesso appunto ci sono i fighissimi quattro che tra l'altro che qui no segno dei tempi che cambiano noi avevamo il trio di protagonisti alla fine quindi Sidney, Gale e Linus che erano comunque tre bianchi anche se c'era la particolarità che c'erano due donne e un uomo di sotto ci sono più donne più uomini che donne nei gruppi qui si torna con più donne che uomini quindi infatti tre ragazze e soltanto Chad come componente maschile però abbiamo comunque cioè per dire entrambi sono tipo Sam e Tara credo che siano in metà tipo messicane perché sono quelle le origini delle attrici mentre gli altri due sono per metà cioè hanno la madre bianca e il padre di colore c'è anche una lesbica quindi insomma c'è una maggiore inclusività segno appunto dei tempi che cambiano e ripeto a me va benissimo unica cosa cazzo alla fine appunto Sam c'è il ragazzo Tara e Chad stanno assieme Mindy è l'unica stronza a cui le crepa la ragazza poverina questa ragazza tra l'altro asiatica sempre per la questione di inclusività che muore malissimo appunto cascando giù dalla scala dopo che è già mezza sguardata come cazzo ha fatto a trovare la forza di andare sulla scala non lo so però vabbè in Scream si sopravvive alle peggio cose anche Chad che ancora vive dopo millemila pugnalate come cazzo è possibile comunque cioè appunto Mindy è l'unica che non tromba omofobia involontaria forse no non penso penso che sia un caso però nel prossimo film fate trombare anche lei che poverina pure lei c'ha il diritto di ciulare oddio si potrebbe fare che il belloccio in Scream 7 si rivela Ghostface e lui già si era infiltrato ai tempi le aveva salvate perché voleva uccidere lui dopo lasciando quindi tendere l'idea di saga programmata che avevo detto certo ci sarebbe di nuovo di nuovo il fidanzato però insomma è bisogno un po' vedere come ce la si può giocare quindi staremo a vedere il futuro della saga io sono curioso di vedere come andranno avanti perché andranno avanti anche se direi sinceramente non fatelo uscire tra un anno concedetevene due così ve lo studiate un po' di più poi vediamo se mantenere i due registri e hanno detto vorremmo che venisse fatto anche senza di noi quindi forse non lo dirigeranno più loro vogliono variare ci potrebbe anche stare magari potrebbero dirigere un altro film e poi appunto fare Scream 7 anche appunto per la questione di pausa che dicevo prima boh staremo a vedere detto questo il video finisce qui grazie per averlo seguito e come sempre se vi è piaciuto mettete mi piace iscrivetevi condividete e ci vedremo a un prossimo video ciao ciao